Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che insieme a Francesco Ciao a tutti Prova a parlare Francesco Sì, io sono sul microfono numero uno Benissimo, benissimo E niente, siamo qui come ogni giovedì a parlare di magia, stragoneria e paganesimo Non è uno scherzo, sono nove anni e mezzo che ogni giovedì vi parliamo di magia, stragoneria e paganesimo Scusate se è poco Francesco, abbiamo qualche annuncio da fare? Beh, diciamo che l'annuncio prossimo e più vicino è l'11 di maggio, che è giovedì alle ore 21 A Montegrotto Terme, al pub Inbolco, in via Orellana 11 C'è il mutuo dei pagani di Viccan del Veneto, come va avanti da diversi mesi perché è cominciato a gennaio E va avanti con una buona regolarità E ora appunto a Montegrotto ci ritroviamo come sempre, al pub Inbolco E appunto qui sarà un momento di discussione, di conoscenza, di confronto, di dibattito Di tutti i scambi di notizie e perciò ossia anche la possibilità di incontrarsi con altri pagani Con realtà diverse e di avere questo incontro informale in quanto non è legato a una conferenza A una presentazione ma persone che si ritrovano, che intervengono e discutono Perciò do l'appuntamento per chi vuole intervenire Al prossimo giovedì 11 maggio alle ore 21 Pub Inbolco a Montegrotto Terme, in via Orellana Logicamente poi su internet ci sono tanti comunicati C'è anche il mutuo di telefono da contattare Per quanto riguarda le persone che vogliono avere delle notizie Su circa questo mutuo, questo incontro periodico Perciò questo è l'unico impegno consistente che c'è nel mese di maggio Ecco un'altra cosa così per inciso Visto che parliamo di un nostro amico Seguite con attenzione le pagine degli appuntamenti Perché c'è in questo periodo l'amico Federico Molo Che sta facendo conferenza all'Africa dappertutto Non sempre riusciamo a dare notizia Anche perché non sempre sono tematiche legate con un interesse specifico nella trasmissione Tipo parlo del suo ultimo libro appunto La Costola dei Misteri Che appunto è la parte della trilogia sugli antichi veneti Che è un libro che io consiglio di leggere Però anche Federico Molo in questo periodo ha scritto un libro Sulla battaglia della Serenissima Ha preso per ogni secolo della storia della Repubblica di Venezia Due battaglie e le ha commentate E questo libro vedo che ha continui successi Continui presentazioni Perciò logicamente essendo un libro storico Per noi è meno appetibile Rispetto a parola, voce della Dea E la Costola dei Misteri Però seguite le notizie delle conferenze Perché la cosa vale a senso ascoltarlo Ed è importante ascoltarlo Ed è poi anche un nostro amico insomma Bene Allora Cominciamo un po' la trasmissione di oggi Perché io sono un pochino arrabbiato E sono un pochino arrabbiato Perché quando mi sfuggono Certe notizie così importanti E chiaramente vuol dire che Anche nel circuito notizie Pur avendo tutta una serie di collegamenti Con giornali Tutta una serie di collegamenti Con organi di informazione Tutta una serie di collegamenti Per le notizie Significa che il Vaticano Riesce a silenziare comunque Tutta una serie di notizie Tutta una serie di informazioni E la cosa mi scoccia Perché mi scoccia? Perché Se col prete Marco Agostini È venuto fuori immediatamente Le porcate che questo individuo faceva O meglio immediatamente Ci hanno messo due anni di indagini Veramente Comunque Quando è stato arrestato La cosa è venuta fuori Se col prete della Calabria Le notizie Le notizie delle sue porcate Sono venute fuori immediatamente Qui invece Stamattina Vengo avvertito Che un altro prete Viene arrestato E il problema grosso Non è il fatto che Il prete venga arrestato Sto parlando del mio punto di vista Ma il fatto che Questo prete In realtà Era già agli arresti domiciliari In pratica Era già stato arrestato E messo agli arresti domiciliari Solo che Da un mese Agli arresti domiciliari Non ne sappiamo assolutamente niente Il che vuol dire Che il Vaticano Era riuscito a bloccare O a circoscrivere La diffusione della notizia E invece Ieri mattina Questo prete È stato arrestato In galera E adesso vediamo anche il perché Ve la prendo la notizia Dalla gazzetta del mezzogiorno Perché sono purtroppo Costretto a prenderla da là E dice Pedofilia Arrestato sacerdote Nel Leccese Era stato già bloccato Circo mese fa In auto A Roma In compagnia Di un dodicenne Ma poi Avrebbe tentato Di convincere La famiglia del bambino A non sporgere denunce Roma Un sacerdote Quarantenne È stato arrestato Degli agenti Della squadra mobile Di Romana In un paese Vicino Lecce Nell'ambito Di un'indagine Su abusi sessuali Nei confronti Di minorenni Secondo Indiscrezioni Il sacerdote Già bloccato Circo un mese fa Attenzione Questo è stato bloccato Un mese fa Dagli agenti Della polizia stradale Mentre si trovava In compagnia Di un dodicenne A bordo Della sua auto Sul grande raccordo Anulare Della capitale Cioè in pratica È stato arrestato In flagranza Di reato Avrebbe Questo personaggio Cercato Di convincere La famiglia Del minore A non sporgere Denuncia Nei suoi confronti Per questo motivo Il religioso Parroco Della cittadina Pugliese Sarebbe stato Raggiunto Da un nuovo Provvedimento Di custodia Cautelare Le indagini Degli investigatori Della quarta sezione Della squadra mobile Di Roma Erano iniziate Subto dopo La scoperta Dei continui viaggi Fatti a Roma Dal sacerdote Durante i quali L'uomo Era solito Farsi accompagnare Da ragazzi Del suo paese La polizia Ascoltando Varie testimonianze Comprese Inizialmente Quella del dodicenne Trovato in auto Con il religioso Ha accertato Che i minorenni Venivano condotti Sempre nello stesso Ambiente romano Dopo Essere finito Agli arresti Domiciliari Nella sua abitazione Il sacerdote Tuttavia Avrebbe continuato Ad avere rapporti Con i ragazzi Anche nel suo appartamento Ed avrebbe tentato Secondo l'accusa Di inquinare Le prove A suo carico Contattando Le famiglie Dei minorenni Tutte residenti Nello stesso paese Proseguendo Nelle indagini Sul conto Del religioso Però La polizia In collaborazione Con la mobile Di Lecce Ha condotto Una serie Di accertamenti Nel centro abitato Dove vivono Circa 2000 persone Con grandi difficoltà Gli investigatori Hanno scoperto Che alcuni anni fa Il sacerdote Aveva formato Un gruppo religioso Che organizzava Campi estivi E invernali Per i giovani Del paese E aveva creato Anche un gruppo Direttivo Soprannominato Il gruppo Dei dodici Composto Da adolescenti Maschi Alcuni dei quali Avrebbero accompagnato Il sacerdote Nel suo viaggio A Roma Fra le varie testimonianze La polizia Ha ottenuto Quella della perpetua Della parrocchia Che Secondo quanto Ha raccontato Gli investigatori Già in passato Avrebbe avuto Sospetti Sui comportamenti Tenuti dal religioso Nei confronti Dei ragazzi E per questo Sarebbe stata Anche picchiata 3 maggio 2006 Tratto dal sito www.lagazzettadelmezzogiorno.it E anche nel Corriere della Sera www.corriere.it Abbiamo questa notizia Però in termini Molto più stringati In manette Un prete Di Sternatia Nelle Cese C'è gli arresti Domiciliari Perché è accusato Di pedofilia E sacerdote Fermato questa mattina Degli agenti La squadra mobile Di Roma Era stato colto In fragrante Un mese fa Mentre era appartato In auto Con un minore L'arresto è scattato Perché il religioso Avrebbe tentato Di inquinare Le prove a suo carico Ora si trova Nel carcere di Lecce Cioè Effettivamente Mi fa incazzare Questa cosa qua Perché Una notizia del genere Praticamente È stata silenziata Cioè È di una gravità enorme Vi rendete conto Che si fanno le prime Pagine di giornali Perché un ragazzino Un brianco Va a scrivere 666 Con una bomboletta Spraio Con un pennello Su una chiesa Si fanno prime Pagine di giornali E si riesce A silenziare Una notizia Di un prete Che violenta Sistematicamente Dei ragazzini Ma se tu pensi Che il giornale Corriere del Vento Con il fatto Delle pagine in terra A Vicenza Sono dei ragazzi Sostati sospesi A scuola Perché giocavano Con delle finte osti Siamo all'allucinazione Cioè veramente Io continuo a ripetere ancora Io non metto in discussione Che le forze di polizia E i carabinieri E i magistrati Facciano il loro dovere Quando è possibile farlo Però non c'è Attività preventiva Cioè non si parte dal presupposto Che gli oratori Servono per stuprare bambini Per spacciare eroina Per costruire disagio sociale Finché non si parterà Da questo presupposto Di indagine E non si comincerà A fare un lavoro preventivo Su questo Ci sarà sempre Da indignarsi Ma sempre Ma sai Claudio E' cominciato Quel mese di maggio E' cominciata La campagna Dell'otto per mille E logicamente Sai Costerebbe l'immagine Che si vuole dare Che si vuole costruire Sai quanti giornali Aspirano Sperano Nelle inserazioni pubblicitarie Dell'otto per mille Sono cifre enormi Se tu guardi La pubblicità televisiva Io parlo solo Dei canali RAI La pubblicità televisiva Dell'otto per mille E' enorme Sono miliardi Che si muovono Logicamente Come si può presentare Al contrario Dei sacerdoti Che sono così No Queste cose Vanno tenute nascoste Se si possono occultare Si occultano Se si possono nascondere Si nascondono Si cerca di evitare Il clamore Ma d'altronde L'attività di censura Non avviene soltanto Sui fatti dei preti pedofili Avviene anche in altri campi Perché Se sul Corriere della Sera Possiamo Un giornalista scrive Ma se i cattolici Non cedessero La dettazione censore Se si astenessero Della ricevibile richiesta Di bloccare L'uscita di un film E di nascondere I manifesti Allestiti Per pubblicarlo Pubblicizzarlo Non sarebbe Una descritta prova Di evitabilità culturale Cioè Il giornalista Ci porta All'interno Di un grande articolo Ci dice Che addirittura Si farà di tutto Per nascondere I manifesti Del film Del codice Del codice da Vinci Cioè E ora Se i cattolici Hanno questo impegno Questa bravura Questa intenzione Che si vedono danneggiati Che subiscono un danno Che subiscono una violenza Un'oltraggio Un'offesa Soltanto perché Esce un film Come il codice da Vinci Ti puoi immaginare Quanto può essere Per loro irritante Fastidioso Quanto può alterare Le immagini Che vogliono dare Di sacerdoti Con una campagna Come per l'otto Per mille Senta queste notizie Più possibilmente Devono essere nascoste Silenziate Occultate E fatte sparire Ma appunto Questa notizia È del lunedì Primo maggio In cui si dice Che appunto Addirittura Faranno di tutto Per nascondere I cartelloni pubblicitari Di un film Come il codice da Vinci Io ho letto Del codice da Vinci Ho letto un articolo Sempre che sta girando Su internet Affirma Dei insegnanti Dei insegnanti Di religione I quali dovrebbero Vergognarsi Perché quelle affermazioni Sono degne Di un Bin Laden E sono effettivamente Dei prologhi Di attività Di eversione E di terrorismo Io capisco Coscioli 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 Quello che ha fatto Gesù non è mai esistito Ma in effetti Il tribunale Tutto lo sommato O direttamente O indirettamente Gli ha dato ragione Al di là della sentenza Che ha fatto E il problema grosso È che proprio perché Non è mai esistito E si possono creare Tutte le leggende Tutte le storie Che si vuole Per cui è inutile Che i cristiani Continuino a dire La vera storia di Gesù È un falso Vuol dire mentire Vuol dire truffare le persone Vuol dire ingannare Ed è questa una cosa Vergognosa Da un punto di vista Della società civile Cioè Che qualcuno Voglia far passare Per vero Favole tipo Capucetto Rosso O Biancaneve Che poi sono più vere Le favole di Biancaneve E Capucetto Rosso Che non La panzana Della esistenza E quel patto di Nazare Che oltretutto Sta sciacallando Da duemila anni Il sistema sociale Cioè Sta distruggendo Tutto il distruggibile Sì ma Se tu pensi Come un signore Vice del libro Di Daun Brown Con il codice di Vici Sono Aperte per queste Calunni Offese ed errori Che se Fossero stati indirizzati Al Corano La Shoah Avrebbero provocato Giustamente Una sola rilevazione mondiale Chiuse via golette Allora Significa Che si mette Questo Il solo discorso Di scrivere un romanzo Che già gli ha fastidio Che dia qualcosa di diverso Diventa un qualcosa Che merita Una rivolta popolare Ma d'altronde Sai Questa volontà Di Essere Violenti Di essere Per l'inquisizione Di chiamare Le guerre sante Le crocette di religione Verso chi si discute L'abbiamo continuamente In ogni campo E' uscito Un articolo Ed è Lui di Primo maggio 2006 Uno dei tanti nuovi Neocovertiti Come Francesco Alberoni E dice Infatti Parlando del libro Di Da Vinci Dice Infatti Chi ha letto il libro Parlando appunto Dei versetti satanici Dice Che chi infatti Ha letto il libro Pochissime persone In realtà Nonostante i milioni Di copie Si sarà accorto Che vi si trovano Un vero e proprio Sbeffeggio Delle rivelazioni Ricevute da Maometto La base stessa Della regione islamica I musulmani Che prendono La loro religione Molto sul serio Più dei cristiani Se ne sono accordi Subito E hanno reagito In modo spietato Per carità Mi ripugno La loro condanna Ma capisco La loro vigilanza E allora Quando si chiama La vigilanza Esistono Esistono due cose Da tenere distinte In maniera Molto forte Quello che è Il vilipendio Quella che è L'offesa gratuita È una cosa Quella che è La satira È un'altra cosa ancora Quella che è Invece La critica La critica feroce Rispetto a delle affermazioni Che sono palesemente Falsa È un altro aspetto ancora Pertanto È vero Che Shaman Rassi Nei suoi versetti Satanici Ha attaccato Ha attaccato I musulmani Però Lo ha fatto Nella dottrina Lo ha fatto Nella realtà Dottrinale Quello che invece È diverso È la blasfemia Cioè L'offesa Al sentimento religioso Di alcune persone Un'offesa Che è gratuita Ma Il guaio Del codice Da Vinci È che non offende Assolutamente Nessuno Nel senso che Dà una sua realtà Che poi Quella realtà Scocci Al Vaticano Scocci Ai cristiani Perché I cristiani Vogliono avere Una realtà Vera Che non è vera È falsa E più realtà Alternative Vengono fuori E più si dimostra La falsità Della loro realtà E quello è un affare loro Cioè Quello è un loro problema Hanno mentito Per duemila anni Hanno ammazzato Le persone Per nascondere La loro menzogna E chiaramente Adesso Le cose Si stanno rivelando E attenzione Non è da molto Che questo avviene Sono circa Dai cinquanta Ai sessant'anni Che le cose Stanno procedendo In questa direzione Perché le critiche Precedenti Per quanto dure Abbiamo pochissimi personaggi Che attaccano La figura di Cristo In se stesso E in Evangelio Prima si cercava Sempre di salvare La figura E quei personaggi Non sono passata bene Nella storia E fate a pensare Giorgio Quartara Appunto Che è completamente Sparito Silenziato Cancellato Da ogni momento Da ogni circostanza E da ogni riferimento Insomma Nel libro Il Santo Reik Di Nietzsche Si dice una cosa Nietzsche Non poté mai Essere usato Dai nazisti Per due condizioni Fondamentali Innanzitutto Nietzsche Era filo Filo ebreo Prima di tutto E secondo luogo Nietzsche Era anticattolico Era anticristiano E queste due condizioni Impedirono Al nazisti Di usare Nietzsche Tanto per essere chiari Si beh Dottor Nella sua critica Al cristianesimo È talmente radicale Talmente forte Talmente appunto Consistente Che ben difficile Poteva essere utilizzato Perché se voi pensate C'è una frase Di Nietzsche Riferita Alla vocazione Cristiana Della sofferenza Dice Disprezzavano il corpo Non lo prendevano In considerazione Anzi Lo trattavano Come un nemico Il loro deriglio La crede Che si potesse portare In giro Un'anima bella In un aborto Di cadavere E questa appunto È una frase Di Nietzsche Che ci fa comprendere Come lui avesse capito A fondo La realtà Del cristianesimo Del monoteismo E l'avesse criticata Proprio perché Era folle Insomma D'altronde Io cito spesso La frase di Nietzsche Che contro il cristianesimo Ormai è sufficiente Il nostro disgusto Per poterlo condannare E rifiutare E non accettare Ecco Se basta così poco Basterebbe un attimino Di coraggio Di capacità Di volontà Per liberarsene Certo che Chi lavora Come i nuovi Convertiti Gli altri Devoti Per cercare Di impedire Qualciasi critica Non dico A una struttura religiosa Come la chiesa Ma parlo Alla teoria Se vuole bloccare Un romanzo Un film Tratto da questo romanzo Come il codice da Vinci E si va a invocare A una guerra santa Una capacità Di ribellione Di rivolta Di assalto Il passaggio È chiaro A quello dell'inquisizione D'altronde Non da adesso Si propone Sempre D'ambito cattolico Di non Separare Il peccato Dal reato E il passo successivo È sempre L'approvazione Dell'inquisizione Certo che Noi dovremmo avere Un attimino Di più capacità Di ribellarci Al monoteismo Tutti quanti Le sue nature Le sue versioni Perché Io prendo Un articolo Che è uscito Di Magdi Alam Sul Corriere della Sera Del 3 maggio Di mercoledì 3 maggio In cui parla Degli apostoli Dell'Islam Condannati a morte Allora C'è sempre La tentazione Di presentare Il mondo islamico Come un mondo compatto Un mondo univoco Che va in un'unica direzione Un'unica Un'unica possibilità E questo Matti Alam Parla di una lista Di proscritti 33 apostati Già il concetto Di apostasia Impia chiaramente Che le persone Possono essere Manovrate Deformate Piegate Condizionate Marchiate Perché Sul monoteismo Il concetto di apostasia Cioè che tu Adderisci a un'idea Solo perché aderito A questa idea Ne sei marcato Per tutta la vita Le persone sono Libre di fare Scelte E avere alternative C'è il Presidente Che proprio Partendo a questo problema Le Costituzioni nazionali Adesso E anche la Costituzione europea Prevede il poter Cambiare religione Cioè come diritto Fondamentale Cambiare religione Sì E allora Matti Alam Dice che esistono persone Nel mondo islamico Che rischiano la vita Per opporsi All'Islam Sono degli eredici All'interno dell'Islam E di conseguenza Sono persone Che hanno Coraggio Che fanno appelli Togliete Il velo Persone che rivendicano La possibilità Delle persone Di scegliere la religione Nella loro vita Sono persone che vivono O sono uscite Dal mondo arabo Bene Questi qua logicamente Dal punto di vista Diciamo così Etnico Appartiene al mondo arabo Ma hanno una capacità Di comprendere il pericolo E anche di rischiarlo Perché sono stati condannati A morte Bene Dall'altra parte Noi abbiamo in Italia Qualcuno che vuole riportarci Alle orrori Dell'inquisizione E nessuno protesta Del perché Il mondo cristiano Vorrebbe impedire L'uscita di un film Allora Dov'è il coraggio? Il coraggio È queste persone Che rischiano la vita Nessuno protesta Per il discorso Della vera pedofilia Del discorso Che vengono occultate E nascoste Già oggi Sul Rai 3 È andata la notizia Del cartone animato Sul Papa Che è stato mandato In onda da MTV Come prima puntata E dopo un dibattito Di due ore prima E un dibattito dopo Perché le pressioni Le pressioni criminali E mafiose Fatte ad opera Del Vaticano E degli ambienti cattolici Ne hanno impedito L'uscita del cartone animato Ed è un cartone animato Che chiaramente Prima o dopo Avrà i suoi effetti Insomma effetti Anche perché sembra Fatto in otto puntate Mi sembra abbastanza complesso Come cartone Sì ma se tu pensi Che il discorso Che tu parli Appunto del Popetown Si chiama appunto Che è uscito appunto Su MTV E beh il vescovo di Monaco Ha detto Che ridicolizza la chiesa E la fede cattolica Non c'è problemi Cioè Effettivamente La chiesa cattolica È ridicola E la fede Nella chiesa cattolica È ridicola Sta di fatto Che è inciso profondamente Nell'emozione delle persone Però In sé Da punto di vista La ragione È ridicola Sì ma vedi Il fatto stesso È ridicolo È un qualcosa Che deriva Dalli stessi principi Perché Cioè se tu Hai una visione del mondo Una visione del mondo Che è radicata Che è orientata Al mondo Non ci sono problemi Se tu cominci a parlarmi Del sesso degli angeli Della creazione Della apocalisse Mi tiri fuori Un concetto Di peccato Di peccato Veniale Peccato mortale Cioè Siamo nella comicità Se uno vive Fuori dal contesto Religioso cristiano Trova assurdo Viene a parlare Della verginità Viene a parlare Di un sacco di cose Logicamente È la religione estressa Che si scontra con la vita Che si presta Che si scanna con la vita Che si presta Se tu dovessi portare avanti Altre cose Sicuramente sarebbe più difficile Fare cose comiche Perché sarebbe O meno appigli Cioè È la stessa religione cristiana La stessa liturgia cristiana Le stesse foglie cristiane Ad esempio Quella del martirio Della sofferenza Del peccato Della redenzione Certo Uno può prestare Si presta al gioco E quando c'è Esiste una libertà D'altronde Se prendono in giro Il profeta Maometto Nel mondo arabo Nel mondo islamico Non vedo perché noi dovremmo Essere da meno Che non possiamo toccare Questa figura mistopostruosa Come Gesù Cristo E renderla ridicola D'altronde è ridicola Affrontata dal punto di vista Delle persone normali Tengo presente che È ridicola Quando la si prende Con un distacco Cioè Quando la si prende Come Con un atteggiamento Di libertà laica Diciamo sì Ma diventa atroce Diventa criminale Quando la si prende Da un punto di vista Dottrinale E si impone Quella dottrina Cioè Quella figura E quella dottrina Sui sistemi sociali È criminale Perché è il mandato Dello stragismo Francesco Io vorrei farti Un quesito Posso farti un quesito Sì vai pure Allora Tu sai che Qualche anno fa No? Una trentina di anni fa Gridarono La Bibbia aveva ragione La Bibbia aveva ragione Perché scoprirono La civiltà Degli ititi E siccome sulla Bibbia È citata la parola Ittita Urlarono Che la Bibbia Aveva ragione In realtà Cosa è successo La Bibbia Con gli ititi Proprio non ha niente A che fare Non ha niente A che vedere Il problema Veramente grosso È che Un altopiano Diciamo Dove c'erano Gli ititi Sopra Mantenne il nome Di altopiano Ittita Anche quando Gli ititi Erano spariti Pertanto Questa citazione All'interno della Bibbia Non è altro Che l'indicazione Di un altopiano Ebbene Tanta gente Urlò Al fatto che la Bibbia Aveva ragione Avete visto che la Bibbia Aveva ragione Adesso Si pone questo problema Perché Ciò che non sanno I monoteisti È che quando fai Un'uguaglianza Quest'uguaglianza Vale per tutti Ora io ti chiedo questo Dal momento Che il Corriere della Sera Del 30 aprile 2006 Dice La scoperta Dopo 6 anni Di scavi Sulle tracce Del cugino di Achille Rivenuta anche Una corazza Con geroglifici È unica al mondo Ecco il palazzo Di Aiace Omero Aveva ragione Ritrovati a Salamina I resti di due Costruzioni monumentali L'Iliade Racconta la verità Ma allora Dobbiamo dire Che gli dèi Che combattono In forma umana È una verità Sì È una verità Cioè Dobbiamo parlare di verità Se accettiamo una cosa Dobbiamo accettare Anche l'altra Sì Anche perché C'è un discorso da fare Sai che la Bibbia È stata scritta sempre dopo Mai prima Infatti E di conseguenza Sai La Bibbia è un grande Sondaggio di mercato Cos'è presente sul mercato Bene Di conseguenza Noi parliamo delle cose Che si prende sul mercato Qual è la cultura Della popolazione Della gente in cui siamo E noi logicamente Per accreditare questo Raccontiamo queste cose Ma è sempre all'interno Appunto Della appropriazione Indebita Che rientra il monoteismo Cioè il monoteismo È stato sempre Una cosa Artificiale Cioè nel senso Che Già due mila anni Per me il monoteismo Prima non esisteva Si è stratificato Dopo la vittoria Fatta In ultimi due mila anni Cioè la Bibbia Proprio È stata una cozzaglia Di cose Fatte con elementi Diverse Che sono state proprio Fatte Non perché Annunciavano un qualcosa Ma perché qualcuno Dopo ha inventato Un qualcosa Per giustificare Il suo presente Il suo potere E parla appunto Della conquista Dell'impero romano Da parte appunto Di una banda Della setta cristiana Perciò hanno utilizzato Leggende antiche E cosa hanno fatto? Siccome si trovavano Con una marea di materiale Hanno dovuto creare Un vuoto Una cancellazione Un far dimenticare le cose Un bruciare le opere Se voi pensate Esiste un libro Fatto da un cattolico Che si chiama La foglia dei cristiani E dice chiaramente Che tutta quanta La polemica Anticristiana Fatta dagli antichi E' sopravvissuta Quasi in maniera insignificante Addirittura E' sparita Gran parte Della polemica Fatta dai polemisti cristiani Contro i condessatori pagani Bene Di questo non ci rimane Nessuna traccia A parte appunto Il giuliano imperatore Che è un tardo Perché siamo nel 360 Ma anche il discorso Di contro i cristiani Di Porfirio Porfirio Non è niente Rimasto Sì Sontanto Che tra l'altro Gli studiati dicono Che non tutte le citazioni Sono autentiche Che alcune sono state fatte apposta Perché non esisteva più L'originale Origine quando scrive Contro Celso Contro Porfirio Inserisce Arbitrariamente Delle tesi Li attribuisce a lui D'altronde Non so che lo possa smentire Per poter dire Io riesco a contestare Le tesi Di pagani Anticristiani Bene I monotisti Hanno fatto questo Hanno fatto un'opera Di purificazione Della memoria Di cancellazione Purificazione Della memoria Lo uso proprio In termini chiari Che usava Giovanni Paolo II Per dire Cancelliamo Quello che abbiamo Commesso in 2000 anni Cioè La purificiamo Nel senso Che la cancelliamo La facciamo sparire Non c'è stata Hanno creato Un grande vuoto E dopo Qualcosina L'hanno In base alle prassi In base alle abitudini In base ai luoghi In base alle capacità delle persone Hanno conservato Ma in realtà La definizione Stessa del monoteismo È un'invenzione Vale anche per il Talmud Perché nel Talmud Non abbiamo Testi antichissimi No Sappiamo che il Talmud Fu scritto Nel cento dopo Cristo Cioè nel primo secolo dopo Cristo Questo sì lo sappiamo Sì però Non abbiamo testi più antichi No È stato proprio scritto In quel momento E sappiamo anche Che la Bibbia Anzi vi sembra che tra l'altro Se ben ricordo Che il primo testo del Talmud Che ci esista Sia dell'ottocento dopo Cristo Beh quello Il primo testo Che ci siano notizie Questo poi Un altro discorso ancora Comunque Ufficialmente In ogni caso È stato scritto Nel primo secolo dopo Cristo Il Talmud E la Bibbia I primi sei libri Della Bibbia Sono stati Elaborati A Babilonia E sono stati Elaborati Dai Furusciti Che poi hanno fatto i profetti Tipo Isaia Geremia Probabilmente qualcun altro E sono stati Elaborati Sulla base Del fatto che loro A Babilonia Potevano andare a scuola In contraposizione Degli ebrei Che erano rimasti In Palestina Che invece Erano completamente Ignoranti Per cui Tutti i primi Cinque sei libri Della Bibbia Sono stati Elaborati Non è mai esistito Non è mai esistito L'Esodo Non è mai esistito Abramo Non è mai esistito Non è mai esistito Mosè E è talmente chiaro Cioè l'archeologia Ha stabilito Che non sono proprio Mai esistiti Cioè nel senso che Dell'Egitto Noi conosciamo Anche i giornali Di quel periodo Di quell'epoca Che doveva essere La cosa Conosciamo anche I giornali I rapporti Che facevano Le guardie di frontiera All'imperatore Cioè ci è arrivato Anche questo E non esiste Nessuna citazione Di esodo Di gente Ripartita dall'Egitto Che poi ci fossero Delle comunicazioni Fra Egitto Babilonia Egitto E La Persia Quello è un altro discorso Da un punto di vista storico Del discorso dell'Egitto Esiste il fatto Che Sembra da alcuni documenti Da alcuni studi Che ci fu una crisi Economico Demografica In cui Gli stranieri Vennero allontanati Sì E sembra che questa sia stata L'ispirazione Per qualcuno Del discorso dell'Esodo Ma in realtà Non è certo Verificato Quali caratteristiche Che ci raccontano Il problema grosso Il problema grave Della Bibbia È che nella descrizione Dei primi sei libri Questi Hanno introdotto Tutta una serie Di indicazioni Dottrinali Finalizzate Allo sterminio Delle persone E la stessa cosa L'ha fatto anche Negli ultimi libri Sia Isaia Che Geremia Vi ammazziamo tutti Cioè Vi sterminiamo tutti Sbatteremo Le teste Dei bambini Di Babilonia Contro le pietre Cioè Abbiamo Delle aberrazioni Addirittura In un passo Di Geremia Mi sembra che si dica Maledetto Chi non infilerà La spada Nella pancia Del nemico E non farà Con negligenza La strage Non farà Con negligenza Questo Per cui C'è C'è una volontà Di strage C'è una volontà Di genocidio Che è stata Immessa Nella Bibbia E che è Il motivo Portante Di tutta la storia Del cristianesimo Ed è la storia Dell'ebraismo La storia Del cristianesimo Cioè in pratica Il voler Costruire Il genocidio È nell'ideologia Cristiana Ed è nell'ideologia Ebraica Ma riflettete E' una caratteristica Fondamentale Di ogni monoteismo Proprio perché Il monoteismo Presentandosi Con l'anestà Della conversione Perché cioè Il monoteismo Non è che Si è capace Di essere attinente A un luogo A un'epoca A una storia È la necessità Di trasformare le persone Ma trasformare In qualcosa Che le persone Non hanno mai Emanato Ma nessuno Ma è emanato Perché se leggiamo Gorilla e uomo Uniti dal sentimento Con l'animale Condividiamo Un neurone Legato All'estimato Delle azioni Allora La religione Monoteistica Appunto Toglie Alle persone La loro anima Cioè nel senso L'animalità Nella capacità Di comprendere Il significato Delle azioni E di conseguenza Quello che diventa Violenza Quello che diventa Appunto Imposizione Quello che diventa La volontà Di dominio La volontà Di convertire Di far patire La volontà Di imporre È una caratteristica Che appartiene Al monoteismo Perché il monoteismo Va a rendere Anestetico Va a tagliare Va a impedire Che la capacità Di comprendere Che nella nostra specie Non è Per me Il capire Le azioni Non appartiene A un fatto Culturale Appartiene A un fatto Che appartiene All'archetipo Della specie Nel senso Che non appartiene Solo al nostro Archetipo Perché anche Se appunto Questo dice Che anche Il gorilla Ha lo stesso Signoroni nostri Che è capace Di comprendere Il significato Delle azioni Benissimo Significa Che l'archetipo Delle specie Questo è presente Nella vita Di comprendere Il significato Eppure Il monoteismo È la follia Che rende Incapaci Gli uomini Di comprendere Cosa significano Le azioni Beh Noi abbiamo Zappatero In Spagna Ha proposto Una legge Sui diritti Delle scimmie Cioè Pratica Cosa vuol dire La legge Sui diritti Delle scimmie Che non puoi squartarle Non puoi divertire Ti a fare esperimenti In laboratorio Cioè Tutta quella serie Di violenze Che normalmente Viene fatta Su animali Difesi Bene La chiesa cattolica Cosa dice Reazione sdegnata Della chiesa Dà Agli animali Ciò che nega Gli embrioni Beh L'embrione È un non soggetto La scimmia È un soggetto Che vive Con noi Naturalmente Andrebbe esteso Un po' A tutti gli animali Ma non ci sarebbe Bisogno di estenderlo Se non ci fosse Il monoteismo Che nega La relazione Fra l'uomo E la natura Nega Il fatto Che l'uomo È parte È divenuto All'interno Della natura Siccome c'è Il monoteismo Che ha separato L'uomo Della natura Ha separato L'uomo Dalla vita Naturalmente È necessario Un lungo percorso Per riportare L'uomo All'interno Della vita E purtroppo C'è bisogno Anche di leggi Questo è un dato Di fatto Cioè Al di là Di questo Cioè no Sembra ridicolo Ma quando noi Abbiamo stabilito Che anche gli animali Provano dolore Cioè è chiaro Che ci deve essere Un percorso Di equilibrio Se abbiamo Consapevolezza Di questo Altrimenti Non riusciremo mai Come pagani A capire Che I ragni in amore Come Romeo e Giulietta Dal gazzettino Del 26 Aprile Di quest'anno Il 26 aprile Non è tanto tempo fa Secondo lo studioso Il CNR Spagnolo Jordi Moia I ragni maschi Si comportano in amore Come Romeo con Giulietta Perché si arrampicano Fino alla femmina Di solito Più grande I ragni inoltre Preferiscono compagni vergini Piccole grassotelle In quanto sessualmente Più ricettive Eccetera Cioè in pratica C'è una scelta Una scelta di relazione Che fino a ieri Era sconosciuta Però l'abbiamo anche noi Come esseri umani Se noi prendiamo Gli antichi miti Della mitologia Abbiamo sempre Questa capacità Di comprendere Di essere attenti Di essere Molto precisi In quello che ci accade Attorno Perché io vorrei Consigliare Proprio in questo senso Nella capacità Di comprendere Ho appena finito Di legge Un libretto Che è di Raffaele Lopes Pedraza Su amore psiche Una favola Per l'anima E l'autore Fa un Fra l'Italia Ce ne sono tantissime Analisi Della favola Appunto Di amore psiche Però Dà la capacità Di comprendere Come l'umanità In questo caso Appunto Psiche Vive in continuo Rapporto Con la divinità E di come divinità Si prendono cura Delle psiche Di come la percorrono Nella loro via E di conseguenza Tanto l'autore È un autore Appunto Diciamo Di ispirazione pagana Politeista Perciò Ha anche una visione Proprio meno Monoteistica Del solito Meno puritana Però lui dice chiaramente Dice Dobbiamo leggere La tradizione pagana Dall'istate Della nostra paganità Già in altri momenti Mi sono riferito A questa possibilità Che abbiamo sempre E potremmo chiamare Possibilità Rinascimentale Di lasciare Che rinascono Le nostre radici pagane Pensate che questo qui È Uno spagnolo Che insegna In Venezuela Caracas Eppure E fa un corso Di mitologia Su amore psiche Ma è amore psiche Lui dice chiaramente Non è un qualcosa Che insegna le persone A staccarsi Della loro realtà Perché psiche Per diventare Quello che è Percore una via Anche dolorosa Di sofferenza Però in ogni momento Ha delle divinità Che le sono a fianco E lui ad esempio Ricorda Una delle prime scene Del racconto Di amore psiche Quando appunto La dettura Pan interviene Per impedire Che psiche muoia Si vada a suicidarsi Cioè allora Se la continua Presenza Attenzione Amore Vicinanza Desiderio Di far mantenere In vita una persona Di poterla Legare con un amore Che è divino E questo Da disse chiaramente È un'indicazione Per tutti È un modello comportamentale In quanto Il percorso Che fa una donna Come psiche È un percorso Che può fare Qualsiasi uomo Ma dimostra Che lui Non è solo nel mondo Che se ha delle ostilità Se ha delle avversità In realtà Tutto in quanto il mondo Se è attento Troverà sempre Un sostegno Ma perché? Perché non si rinuncerà E soprattutto Sarà anche nel momento In cui Sarà disperato Perché C'è la bellissima scena In cui Venere ordina Psiche Di separare i semi E il popolo Delle formiche Si accorge di questo E corre in aiuto Di psiche E separa le cose Finito il lavoro Scompaglino Mica chiede Che venga fatta Una chiesa Un culto Perché? Dice Esiste Psiche che osserva Il mondo Che certe volte Non ha la capacità Il potere L'abilità Di reggere lo sguardo Ma intorno al mondo Intorno a lei Esiste un mondo Che la osserva Che nota la sua sofferenza È bellissimo appunto Quando lui disse Che psiche Una delle prime scene Di questo racconto Dice Vuole suicidarsi Si getta del fiume E il fiume Che sa che è caro a un Dio L'impedisce di annegare La porta sulla spiaggia Dice Come vedete Noi non siamo soli Il mondo È vivo intorno a noi E soltanto Se noi ci ricordiamo A queste radici Noi abbiamo la possibilità Di affrontare la nostra esistenza Perciò Se io posso dare un consiglio Di lettura Tanto è un libretto Anche abbastanza contenuto Però io l'autore Purtroppo Sono tre libri in italiano Io li ho tutti Me li sono anche tutti Quanti letti Siccome è La mia recente pubblicazione È appunto Raffael López Pedraza Su Amore e Psiche Una favola per l'anima Moretti e Vitali È un libretto appunto Contenuto Che però per me È veramente denso E vi permette Di comprendere Da un altro punto di vista Di come sia importante L'interiorità Dalle persone Ma come sia fondante Anche il fatto Che la psiche Da trone È un termine Che noi usiamo adesso Abbia esperienza Sia attenta al mondo E come dice Psiche All'inizio non ha la capacità Di essere attenta Viene accompagnata Viene sostenuta Ma ha un grande desiderio Che appunto Che è amore E perciò qualcuno La propende come un viatico Come una possibilità Di affrontare l'esistenza Come un qualcosa Che gli dice Esiste una possibilità Di affrontare gli ostacoli Di affrontare le difficoltà Di superarle Che anche le difficoltà Alla fine servono Per compiere un qualcosa Per compiere la nostra esistenza Per diventare noi stessi Perciò l'oggettivo è questo Che tanto è ben scritto Ben fatto Ed è veramente Fra i tanti testi Su amore e psiche Penso che sia quello Più pregnante Chissà perché Nella mitologia greca Se si leggono molti miti E si leggono molte immagini Degli dei Questi non hanno Spesso mai forma umana Però raccontano Dei rapporti Che sono Che sono sensuali Che sono amorosi Che sono psicologici Cioè rappresentano Quelle che sono Le tensioni della vita L'amore per esempio Fra i chidna e tifone Faccio un esempio Che è fra i più estremi Diciamo così Né tifone né i chidna Hanno degli aspetti O hanno delle raffigurazioni umane Eppure molti figli Nascono da loro Cioè molto amore Scorre fra tifone Ed e chidna E molti dei Si manifestano Nelle loro azioni Per cui E già i greci antichi Già le popolazioni antiche Sapevano che La manifestazione Del divino È al di là Della forma È al di là Della specie È al di là Dei modi di essere Quando si accusano Gli egiziani Di adorare Degli animali Si dicono Delle grandissime Cacciate Delle grandissime Stupidaggini Perché non è Che adorassero Gli animali Gli egiziani Ma scorgevano L'azione del dio Nelle azioni Degli animali E quando Rappresentavano Un animale Rappresentavano In realtà Le caratteristiche Del dio Che si esprimeva All'interno Di quegli animali La loro possenza Il loro ruolo Nella vita Cioè praticamente Si scorge L'azione degli dei Si scorge La presenza degli dei L'intelligenza degli dei Nelle azioni Del mondo Che ci circonda Al di là Della forma Che assumono Perché tutto ciò Che avviene È prezioso Per noi Dopo arriva Il monoteismo Sì ma Tu ne sai In questo libro Pedraza dice Per dare la distanza Del passaggio Appunto Tra paganesimo Cristiano Il passaggio Dal paganesimo E cristianesimo E lo possiamo Riassumere Con la seguente Morale Non ci resta Nulla da fare Perché i testi Dicono già tutto Cioè Pensate appunto Alla povertà Della persona Nel mondo pagano Ognuno può diventare Un eroe Ognuno può diventare Una divinità Ognuno può realizzare Se stessi Nel mondo cristiano Nel mondo monoteista Le persone Sono diventate Praticamente Insignificanti In quanto i libri Hanno già tutto Quando le persone Sterminano Altre persone Per favorire Lo spirito In funzione Dello spirito Possono essere Elevate agli altari E questa è la regola Del monoteismo Del cristianesimo I più grandi criminali Della storia Vengono elevati Agli altari Perché hanno Macellato l'umanità In funzione Dello spirito A maggior gloria Del dio Ed è una cosa atroce Preparate un po' Pensarci Ma questo dio Esiste solo Nel loro libro sacro Non esiste Nel loro fantasia In nessun luogo In nessun momento Esistono Nel loro fantasia Nel loro paranoia Che diventa dogma Che diventa Manifestazione di verità E macellano le persone Affinché si adeguino Accettino quella verità E sottomettano Quella verità È una cosa atroce Io qui ho Un altro articoletto Sulla sindone Ed è Un articoletto Preso dal gazzettino Del 26 aprile 2006 No